Ciao a tutti, io sono Rosetta Makeup, ringrazio per quello che mi avete scritto, per tutti i commenti, però purtroppo non posso rispondere a tutti perché non abbiamo molto tempo. Volevo mostrarvi il makeup che ho usato per la Domenica delle Palme, ma che tutti voi potete usare per andare in chiesa e farvi notare dalle amiche e mettervi in mostra. Intanto cominciate ad usare questo ombretto scuro da mettere poi in contrasto con il rossetto per far brillare le labbra da usare in modo che anche dalla seconda alla terza panca è facile riconoscervi che state dicendo il rosario. Per la sera vi mostro un trucco scuro per andare a comprare la carne dal macellaio prima che chiude verso le sette, le sette e mezza, così se vi vede più belli, vi da pure una fettina un pochetto più grande. grazie a questo fondotinta riceverete qualche occhiadina in più, un'occhiata più simpatica. ma nonna, ma che stai a fare col computer mio? sto a vedere la replica di Beautiful, fra poco ho finito. Scusate l'interruzione, vi saluto qua e la prossima volta vi mostrerò come ottenere un trucco perfetto per andare al concerto degli Immortali. Proprio come Abbat e i suoi compagni, passiamo ai saluti, saluto Ida e Maria Rita, le gassiere della Copp, che mi seguono sempre al prossimo appuntamento con Rosetta Makeup. Arrivederci. Grazie a tutti.